Psss, ehi tu! Sì, proprio tu! Avvicinati, avvicinati! Ho due segreti da dirti. Il primo è che sto costruendo una base segreta su Minecraft. E il secondo è che in descrizione ho messo il link sia per Instagram che per il server Discord. Vai a dargli un'occhiata! Ma adesso iniziamo. Signori, buongiorno! Siamo spawnati direttamente vicino alla nostra casa e come vedete, ta-ta-ta! Ho fatto qualche miglioramento. Ora, prima di farvelo vedere, perché sono sicuro che molti di voi saranno curiosi di come l'ho migliorato, però c'è ancora da finirlo, vabbè, ora vi spiegherò tranquillamente. Ce ne andiamo un attimino qui dentro nel nostro bel magazzino. Attimino, magazzino, io ho fatto pure la rima. E ci prendiamo le varie cose per abbellirlo. Allora, sostanzialmente avevo in mente di fare varie stanze nelle quali succedono varie cose. Ad esempio, ci prendiamo un bel po' di casse, ne faccio un bel bel po'. Poi mi voglio fare degli stick e voi direte, perché ho degli stick? Perché grazie agli stick si può fare il supporto per armatura. Me ne voglio fare un paio. Poi mi voglio fare anche un blocco sonore e voi direte, ma perché stai facendo tutte queste cose senza senso? Fidatevi che appena vi farò vedere cosa voglio fare, tutto prenderà senso. Allora, per ora mi sono preso queste cose, di sicuro mi servirà anche altra roba, però per ora vi voglio fare andare a vedere il nuovo coso, il nuovo bunker segreto che ho fatto. L'unica cosa che non mi convince qui, entrate in gioco voi, è l'entrata, perché sì, ok, è interessante, però non lo so, magari si può fare di meglio. Vedete, io scendo così, con le scaline, zu 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 zu. E signori, benvenidos nel bunker segreto, ora questa è da cambiare, ma vi dico il perché, e qua vedete che c'è tutto il bunkerino, bello e interessante, vorrei metterci delle lampade. Fatto sta che appunto, no, perché c'ho il piccone di pietra? Vabbè, dicevo, questa è da cambiare perché volevo farvi vedere come appunto l'ho fatto, ovvero mettevo il mio setup per questo bunker segreto è mettere i vari blocchi di legno come pavimento. Poi magari voi avete idee più belle, avrei messo il quarzo, ma sinceramente non ne ho abbastanza. Quindi andiamo giù di legno e al posto di questi muri brutti così ci mettiamo questo qui, ovvero i mattoni di pietra. Quindi ora mi metterò a togliere il tutto e mi metterò a mettere, mi metterò a mettere tutti i vari mattoni di pietra. Non so perché c'ho il piccone così scrauso, avrei dovuto farmelo in tipo diamante, che ce ne ho lì 27 in diamante, ma vabbè, si vede che era un piccone di emergenza, non mi ricordo sinceramente. Quindi ora vi faccio un piccolo tagliettino e ci vediamo subito alla fine del bunker e appunto quando lo abbellirò. E in caso voi nei commenti scrivetemi come vorreste che io lo abbellissi. Ok signori, muro fatto, sono molto soddisfatto, ho pure fatto la rima, oggi si è in carichi con le rime. E direi di, 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 cioè guardate che bello, ora mancherebbe solo un po' di illuminosità. Vado un attimo al magazzino, prendo un paio di cose che non vi dico, vi farò vedere dopo e poi torniamo. Per voi passerà un secondo, per me passeranno almeno 5 minuti. Allora ho preso tutti i vari materiali, non so se mi bastano tutti, ti prego scendi, ok? Cioè a volte si bugga quindi mi dà un po' fastidio, però so che ci sono delle modalità più interessanti per scendere, ma non è il momento. Allora, vedete che ho un botto di roba, del tipo, una stanza la voglio fare tipo dove non si può entrare, oddio speriamo che mi bastino le grate. C'è una sorta di tipo prigione, no? Tipo mega, mega, giga, gigante, enorme prigione. Vediamo se mi basta le grate, tanto mi sono anche fatto il piccone di ferro. Mi sembrava un po' schifoso utilizzare quello di cobblestone, quindi ferro sì. Allora le grate bastano, però sinceramente vorrei farne altre. Però c'ho solo uno di ferro, ok. Cioè tipo volevo mettere, fare una sorta di, boh, prigione, boh, non lo so. C'è del tipo mettiamo il letto qua, che non me lo fa mettere. Ok, il letto qua. Poi avevo preso anche il calderone da mettere tipo qua. Sì, ci può stare. Poi volendo potrei metterci un paio di ceste. Sì, ci possono stare un paio di ceste, tipo qua così in parte al letto. Il calderone ci dovrei mettere l'acqua. Le torce ci sono. E sapete cosa volevo metterci? Le ragnatele. Perché le grate qua così, boh, non mi piacciono. Cioè ora le metterò da qualche parte, perché non me le voglio tenere da parte. Però le ragnatele, ora voglio vedere se si possono fare. Boh, io non ho trovato niente per la ragnatele. Però, non lo so, scrivetemi unicamente tipo proprio quelle... Eh, ma servirebbe il silk touch. Vabbè. E niente, quindi ci possiamo mettere questo. Ho un'idea, strabella. Mega idea, mega idea. Tipo questo qui così. E boh, per ora basta, dai. Ditemi se ci sta a mettere altro. Ovviamente dovrei mettere l'acqua nel calderone. Ma per il momento non ho più voglia di andarla a prendere su. Dai, carina. Ora, seconda stanza, che è la stanza più interessante. Ovvero, la stanza delle ceste. Cioè, io direi che fare una cosa del genere, ho dovuto craftare altre ceste, ci può stare. Volendo, ne possiamo mettere due anche lì sopra? Ma sì, dai, allora facciamo così. Ho sbagliato, ho fatto una cazzata totale. Allora, ci craftiamo tutto il coso e ci prendiamo altre quattro ceste. Vediamo, vediamo se ci stanno bene. Quante ceste? Vedete che legno serve, quindi la farm di legno automatica è stata utile. E direi che ci può stare. Oddio, quasi quasi ne metterei due anche lì sopra. E quindi concludiamo mettendo queste. Oh, dai, vedete che la stanza delle ceste non può mancare in un bunker segreto. E direi che è molto carina. La cosa che mi dispiace è che qui non ho ancora messo le ragnatele. E sì, un po', sinceramente, mi dispiace. Qui invece voglio mettere nel muro tipo una sorta di mega televisione. E avevo in mente un'idea. Poi magari un'idea sbagliatissima, vediamo. C'è del tipo, se io metto i blocchi sonori lì e qui dentro ci metto la lana nera, può sembrare una televisione? Boh. Nel dubbio, per farla sembrare un po' di più, ci ho preso questi da metterci sopra. Proprio idea totalmente a caso. Ah, sni, 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 sni. E soprattutto volevo farci un divano. Vedete il divanetto, te che tu ti metti qui davanti alla televisione, ti sbacchi. E tra l'altro mi servirebbe anche un tavolino. Ah, non ho preso le cose per fare il tavolino. Tipo il leggio. Allora, prendiamo anche il leggio. Sto facendo delle prove, sto abbellendo il bunker, che mi sembrava interessante. Qua ci mettiamo il leggio. E qua, o qua, qua dai, ci mettiamo il tavolino. Guardate come esce, avevo fatto qualche prova, ma non è che mi ispira molto. Cioè, boh, non lo facciamo, a parte che si legherebbe anche. Cioè, potrei farlo un pochino più spostato del tipo qui, però... Non mi piace, non mi piace, per ora non lo facciamo. Ci starebbero i vasi, però non posso farli per il momento. Ci starebbe anche qua una cesta, in realtà. Sprechiamo altro legno? Sprechiamo altro legno. Cioè, sarà, ma a me le ceste, proprio esteticamente, mi piacciono un casino. Un casino. E ora, invece, di qua, avevo in mente di farci un'altra cosa. Del tipo, un omino qua e un omino qua, che ora non ho, ma mi devo craftare. Ho un'idea. Facciamo che guardano verso di qua, esatto. Vi farò vedere il motivo del loro sguardo verso di qua. Allora, non ho della cobblestone. No. Allora, torno nel magazzino. Oh, comunque, guardate. Allora, questa carina, ma un po' spoglia. Questa carina, però dovrei metterci la cobweb. Questa, vabbè, è una stanza degli approvvigionamenti e ora concludiamo questa. Signori, sono molto contento. Sono molto soddisfatto del mio operato. Devo ammetterlo. Bravo, Master. Mi do il 5 da solo. Yeah. Oh, yeah, Master. Allora, sono tornato perché vi voglio far vedere cosa ho intenzione di fare. Allora, non ho preso l'acqua. Dannazione, mi dimentico sempre dell'acqua. Allora, fornaci alla mano. Tech, tech, tech. Poi, non è finita, perché voi direte, come è già finita qui? Non è assolutamente finita. Prendiamo gli item frame e li voglio predisporre così a 6. Poi ci metto qui l'arco, qui le frecce. Non so se è meglio... No, dai, mettiamola così. E, dulcis in fundo, le nostre spadine. Cioè, guardate che bello. Una così e l'altra al contrario. Facciamo questa? Cioè, a me gasa un botto. A me sta cosa gasa un botto. Poi, se fossero tutte di diamante, sarebbe ancora bello. Questi li dovrei abbellire. Ci devo mettere i cosi. Però, per ora, facciamo senza. E fine. E sostanzialmente questo era. Ora, vorrei mettere queste ultime grate, perché tenerle nell'inventario proprio mi dà un fastidio. Ma un fastidio. Quindi devo metterne 4. Facciamo una cosa del genere. Tipo, lì è gli angoli. Poi, qui ce ne vanno due, quindi me ne mancano due. Tipo, possiamo fare... Anzi, possiamo fare così. Le ultime due le metto qua dentro. Così sembra che, tipo, boh... Lui le abbia... Stia rompendo le sbarre per evadere. Anzi, potrei fare un mini passaggio dove lui scava. Eh, potrei farne di cose. Soprattutto mettere l'acqua. Anzi, e gli do pure una bistecca. Perché lui si è preso sia le sbarre che una bistecca. Ne avrai solo una. Il nostro carcerato, che ovviamente è lui. Che, tipo, sta girovagando per la nostra... Per il nostro carcere. E dai, direi bello. Ci mancano le ragnatele. Qua le ceste, interessantissimo. Signori, sono molto contento del mio iniziale... Mh, diciamo, bunker. Qui, vabbè. Cioè, la cosa ignorante è che c'è una sala d'attesa dove ti puoi svagare. In parte è un carcere. In parte ha delle ceste totalmente a caso. In parte ha delle armi. Un tempio delle armi. Ok. Però va bene, sono contento. Ditemi appunto come migliorarlo. Io intanto esco. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Almeno non è ancora notte, anche se si sta facendo notte. L'ho gufata, ma va bene così. Io direi di... Ah, dovrei tosare anche le pecore. Ah, prendo l'acqua. Dai, facciamo che prendo l'acqua una volta per tutte. La vado a mettere in caso vi taglio questo pezzo. Perché è giusto per completismo. Ah, bonjour. Vediamo lui cosa offre. Con dietro uno scheletro. Ehm, niente di interessante sostanzialmente. Ok, sei stato inutile. Perfetto, ci vediamo verso la fine del video. Vado a fare gli ultimi accorgimenti. Buono, dai, sono soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Scrivetemi cosa posso aggiungere. Ma ve l'avrò detto già 500 volte. Qua mi è morto il villaggio. Per chi non lo sapesse, sono spariti tutti cause non naturali. Dovremmo andare anche nella magione. Credo si chiami magione. Dei villager. No, pillager, pardon. Per andare a sterminarli tutti. Come se non ci fossero domani. Io metto via queste ultime cose. Tipo l'item frame. Lo possiamo mettere tranquillamente qui. Quindi, signori, mi tolgo le cuffie. Come alla fine di ogni episodio. Spero che vi sia piaciuto. Non so quanto è durato. È stato giusto un abbellimento del bunker. Vi ho fatto vedere che almeno c'è. Dovremmo aggiungerci cose. Magari dovremmo toglierci altro. Dovremmo prendere la cobweb da inserire nella nostra prigione. Che mi piace un botto. Tipo la mia stanza preferita. Anche se è strano da dirsi. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora. Ovvero alle 2.45 con un nuovo video. Ciao!